Voglio ringraziare tutto il mondo produttivo, voglio ringraziare le filiere, voglio ringraziare tutte le realtà e le associazioni che hanno dato la loro disponibilità, sottoscrivere questo patto anti-inflazione, uno strumento attraverso il quale noi lavoriamo insieme per calmirare i prezzi sui principali beni di largo consumo. Io vi ringrazio perché credo sinceramente che questa iniziativa vada al di là del valore economico che ha. Credo che sia anche un bel messaggio, un messaggio che noi diamo alla nazione, che diamo ai cittadini italiani sulla capacità che l'Italia ha ancora nei momenti di difficoltà di lavorare insieme, di cercare di muoversi come una comunità per raggiungere degli obiettivi. Questo è secondo me quello che accade oggi ed è un messaggio estremamente prezioso. Io penso che sia la prima volta che tutto il sistema Italia, gli attori delle filiere all'agroalimentare, dei beni di largo consumo firmano un patto con il governo per tenere sotto controllo i prezzi del carrello della spesa, per aiutare le famiglie italiane, particolarmente quelle che sono maggiormente in difficoltà.